amici di youtube ben trovati da marco liguori in questo video parliamo di un grave lutto per il mondo dello sport a soli 56 anni ci lascia la bellissima atleta e prima di iniziare vi ricordo che colore questo video dovesse superare i 200 mi piace ne pubblicherò immediatamente uno nuovo qualche giorno fa ci ha lasciato la bellissima sportiva lottatrice del wrestling ursula hayden aveva 56 anni per chi non la ricordasse diciamo che ursula hayden ha interpretato il personaggio di babe la figlia del contadino durante l'epoca d'oro del grande wrestling per la cronaca quando in italia era commentato dal grande dan peterson ursula hayden era bella atletica e talentuosa come detto si è spenta a soli 56 anni amici di youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video